Per me è una idiozia. Lei è contrario? Certo, in questa condizione secondo lei è normale fare un carnevale. Si dovrebbe fare. Viareggio senza il carnevale non è Viareggio, ragazzi. Sono pareri contrastanti quelli che a Viareggio accompagnano l'inizio del montaggio del circuito del carnevale. Nonostante la delicata situazione dovuta all'emergenza sanitaria, Le date della manifestazione per il momento restano confermate con il primo corso mascherato in programma per il 12 febbraio. È iniziato così il montaggio del circuito della manifestazione, dai palchi ai New Jersey. Stiamo montando quelle parti del circuito, spiega la presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, meno invasive, non intendiamo creare disagio agli operatori della passeggiata. Intorno al 20 gennaio, quando avremo maggiormente contezza della situazione, decideremo il da farsi se proseguire con le date indicate o se trovare invece soluzioni alternative. Intanto, come spesso accade in queste circostanze, i pareri si dividono. Un po' un azzardo quello di montare già i palchi e le tribune. Si spera in bene che se stiamo tutte alle regole, secondo me, ormai il grosso è andato, quindi bisogna ripartire. Penso che va bene, sarà ora. Sarebbe una bella cosa poterlo fare, speriamo. Questo Carnevale va rimandato, non so a quale data, perché bisogna ragionare per la sicurezza delle persone. E credo che questa sia la condizione migliore per poter poi uscire da questa pandemia. Se facciamo un Carnevale ancora con tanta gente rischiamo troppo. Ma è una cosa un po' arrischioso.